Oh mio Dio, no, perché c'è una roba esplosiva? Baseball! Ma esplode! Fuori campo! Io non sto capendo, dove è andato, pila? Ragazzi, non pensavo che saremmo mai arrivati a questo punto, ma io e Cat siamo su People Playground in multiplayer. Alza la pistola, alza la pistola piano. Tu alza la pistola piano, no, aspetta, no, alza, ma sei stupido, maledetto, stupido, no, fermo, fermo, sto morendo, sì, hanno fatto, hanno fatto People Playground, ma ci aspetta, People Playground in multiplayer, dammi sta pistola, dammela, dammela, basta, basta, Guarda, guarda che prendo il tuo corpo e lo spiaccico, no, Cat, oh mio Dio, il mio corpo! Sei, sei, muori, muori! Oggi faremo degli esperimenti alquanto particolari sui personaggi di Garden of Bamban, sei pronto? No! Adesso ti ammazzo, dammi la pistola, dammi la pistola, sì! Come puoi vedere, mio caro Cat, quello è Marcello, ma su People Playground, vieni, vieni a vedere quanto è bello! E quello verde lì sopra? Vieni! No, quello verde è Jumbo Josh di Garden of Bamban, che tu dovresti conoscere! Sposta il gatto! Spostalo! Scusa, arriva, arriva! Un po' più veloce! Guarda, aspetta, aspetta, così! Così, così va meglio, no! Mi vendicherò! No, no! Io lo sapevo che portandoti su People Playground sarebbe finita malissimo! No, aspetta, prendo il comando di Jumbo Josh, vieni qua, vieni qua! Te lo spezzo! No, no! Cat, stai buono, Cat, Cat, mi hai distrutto tutto! Guardalo, guardalo, guardalo! Mi hai distrutto completamente Jumbo Josh! Lascia, lo sistemo! Fermo, non lo sistemi! Perché l'hai distrutto! Gli hai spezzato le mani! No, ti puoi aggiustare! Aspetta, fermo, oddio! Prendi le bombe atomiche! Attivale! Attivale! Dove stanno, dove stanno? Con F, stanno qua le bombe atomiche! Mi c'era un'altra! Sono pagato addosso! Mi sono spaventatissimo, non l'avevo vista mai nella vita! Eh, Poggo! Vai un attimo, soprattutto! Che successo? Che vuol dire soprattutto? Non c'è niente! Non lo vedi, Gianbo Josh? Buggatissimo! Ma ha perso anche del sangue! Oh mio Dio! È diventato tipo le... Ah! È sparito! Guarda, lo sta fluttuando! Stai vaporizzando! Più un piano! Questa roba l'ho già vissuta, guarda! Adesso spawno un Marcello! Dov'è Marcello? Dov'è? Anzi, Steve di Minecraft! Guarda! Guarda! È un frullatore! Sì, è un frullatore! Dov'è Marcello? Guarda, guarda, guarda! Vai! No, 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 no! No, Cat! Cat! Così si rompe tutto! Guarda! Guarda! È il frullinator! Siamo riusciti a catturare un vero esemplare di Jumbo Josh! Gigante! Mi scusi! Ma chi sarebbe il gatto dietro di lei? Ciao! E perché avete una motosega in mano? Capo! Capo! No! No! Mi scusi! Tutto bene, Pogo? Grazie per avermi difeso, Cat! Quello è un'impe... No! Cat! 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 Non dà! Ti elimino la motosega! Te la elimino! Basta! Lasciami! Lasciami! Non prendermi a testate! Ho spawnato un coltello! Oh! Oh! Scusso! Ecco! Ecco! Sei! Ah! Perfetto! Johnny quindi è riuscito davvero a catturare un esemplare di Jumbo Josh! Vieni! Fratello gatto! Saliamoci sopra! Vieni! Vieni! E adesso proviamo a segare tutto! Dai! Ci faremo delle armature! Aghia! Jumbo Josh! Sali! Sali di più! Di più! Ah! No! I piedi imbecile! Che dolore! Pagata! Io non ci posso credere! Ma perché? Perché devi distruggermi tutto? Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Basta! Basta saltellare ovunque! Ah! 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 Maledetto Cat! Guarda te! People Playground Multiplayer! Ah! Oh mio Dio! Ho deciso! Ci sfideremo in un incontro di box! Il vincitore lancerà Bam Bam! in un frullatore gigante! Va bene? Sei pronto a combattere? Dai! Fatti sotto! Vatti sotto! Mio! Fatti sotto! No! 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 Mi metti anzia! Ahia! La mia destra! Ah! Così impari! No! No! Aspetta! Aspetta! Il braccio! Scusa! Non riprendo! Un attimo! Ah! Body slam! Aspetta! Aspetta! Mi rimasta solo la testa! Guarda come tangilo di Demo Sleer! Ahia! Ahia! No! 360! Ti stacco le gambe! No! Sei! Ti stacco! Ho vinto! Ho vinto! Lo butto io! Questo imbecille nel frullatore! Anzi! Anzi! Lo farò comunque buttare a te! Va bene? Sì! Prima però, solo per soddisfazione! Ti faccio schiacciare! Che bello! Che goduria, Bam Bam! Fermati! Bam Bam! No! Il momento di ballare! E tu! Leva sto piede! Imecilla! Che mi dà fastidio! Adesso! Al tuo via! Io premerò il pulsante! E Bam Bam verrà gettato nel frullinator 3000! Sei pronto? Vai! Al tuo via! Let's go! Ma lui è Bam Bam quindi? Sì! È lui Bam Bam! Non sei tu! Muoviti! Ok! Vai! Perfetto! Vai! Guarda! Guarda! Guarda che si è inceppato! È troppo grosso! Ok! Un attimo! Vedere! Pina vicino! Oh! Mamma mia! Non lo guardare da vicino! Fidati di me! Aspetta! Aspetta! Si è incastrato! Oh! Dio! Calmo! Calmo! Si è leggermente incastrato! No Cat! Lascia stare! Lascia stare il mio personaggio! Guarda! Guarda che me l'ha triturato! Dai! Dai! Dammi una mano! Dammi una mano! Sì! Sì! Deve scivolare giù! Apri! Apri! T'aiuto! Cat! Sì! Devi aprire! Bravo! Bravo! No! Ho preso la tua gamba! Non va! Non va! Devi aprire quello! Apri quello! C'è la mia testa! Sto soffrendo! Vieni pure tu! Oh no! Onda! Mi dispiace Cat! Non volevo! Guardalo! Guardalo! Guardalo che si sta dimenando! Aspetta! Dobbiamo cercare di aprire questo coso! Apriti! No! No! Cat! Stai buono! Stai buono! È uscito fuori! Tu torna dentro! Torna dentro! Torna dentro! Ok! Piano! Piano! Dobbiamo aprire questo! Ma non si apre sì! Sì! Ok! Ok! Vai! No! Cat! C'è il tuo corpo! Come c'è il mio corpo? Dove? Sì! C'è il tuo corpo che sta per finire nella ciotola gigante del pollo! Quindi questa è carne di gatto in scatola! Vabbè! Più o meno! Tu! Brutto imbecille! Dai! Guarda! È altissimo! Tira! Oh! Guarda! Aspetta! Aspetta! Cat! Cat! Questi esperimenti non stanno finendo proprio benissimo! Aspetta! Si è incastrato! Tira! Tira! Ci penso io! Poggo! So cosa fare! No! Che cosa vuoi fare? Eh! Credo si è esploso lo stesso! Bravo! Bravo! No! No! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Penso funzioni adesso! Che tu mi spieghi esattamente perché sei davanti ad un mare di acido a sparare con un carro armato però sei un genio! Aspetta! Guarda! Perché? Guarda! Guarda! Fidati! Continua a sparare! Continua a sparare! Guarda! Al volo! Aspetta che carica! Al volo! Vai! Vai! Spara o pila! Vai! Vai! Io te le spawno! Tu le spari! Veloce! Spara! Vai! Mi sparo! Non con il carro armato nell'acido! Cat! Non con il carro armato! Non ricampo! Dai l'acido! Nell'acido! Cat! Ti prego! Stai buono! Adesso? Adesso vieni qua! Vieni qua! Leva sto carro armato! Ma c'è squagliato anche il carro armato! Ops! Cat! Oh mio Dio! Oh mio Dio! È diventato un fidget spinner carro armato! Leva sto coso! Grazie! Non commenterò il fatto che ci sia un gatto sopra un gatto e mi sia spezzata la testa! Ma adesso testeremo la resistenza di tutti i mostri di Garten of Bamban! Bambalina è completamente impazzita! Gettandoli in un mare di acido! Ecco perché laggo ora! Non vedo l'ora! Esatto! Stiamo laggando tantissimo! Perché sti cosi sono giganti! Ma adesso non vi preoccupate che li butteremo nell'acido e li faremo sciogliere! Perché siamo pazzi e Cat ancora non è morto! Adesso va meglio! Inizierei da Jumbo Josh! Che tra l'altro ha lo stesso colore dell'acido! Vai Cat! Divertiti! Immergilo tu! Lascio a te! Oh guarda! Guarda! Secondo te si scioglie? Secondo me no! Secondo me è così grande da non sciogliersi! Resta su! Resta a galla! Ti penso io! No no! Come ci vuoi pensare tu? Basta! Con le bombe atomiche! E comunque non gli fai niente! Oh mio Dio! E invece? Oh mio Dio! È andato in cortocircuito! Abbiamo appena scoperto che Jumbo Josh in realtà è un robot! Ma se io lo schiantassi contro il muro! Attestate! Solmo! Ci ho pensato io! Aspetta! È esploso Jumbo Josh o hai fatto esplodere una bomba atomica? No no io io io! Ah ok! Pensi... L'ho sbattuto contro il muro! Pensavo fosse esploso lui! No! Tutto ho buggato lo vedo! Cat! Mi daresti una mano un attimo con il lumacoide giallo? Ha qualcosa tra i denti! Potresti venire a controllare per favore? Ah no! Qui! Proprio sui denti di sopra! Vieni a controllare! Sì aspetta! Vieni! Vieni! Cat! No! Basta bombe atomiche! Io sapevo! Io lo sapevo! Non ti dovevo portare su People Playground! Perché finisce sempre così! È il momento di passare al personaggio che odio di più in assoluto! Ovviamente oltre ad Opila! Ossia Marcello! Sì! Che sta cavalcando l'ucceglione rosa! Vai! Vai! Adesso tecnicamente dovrebbe sciogliersi sia Opila che Marcello! No! Mi sa che si sta sciogliendo solo Marcello! E adesso stanno affondando! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Spesso io far sciogliero Opila! No! Cat! Spawna un'altra bomba atomica! No! Il carro armato sott'acqua! Nella! Oh! Opila! Guarda! Si è teletrasportata! Vai Opila contro il carro armato! Matrix! Bam! Bam! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Che cosa sta succedendo? Baseball! Aspetta! Fermo! Fermo! Guarda! Oh mio Dio! Oh mio Dio! No! Perché c'è una roba esplosiva? Baseball! Fa esploder! Fuori campo! Io non sto capendo! Dove è andato Pila! Guardala che sta volando nel lì per spazio! L'hai colpita con un carro armato mettendolo come mazza da baseball! Si ho fatto un fuoricampo! Io non ho parole! Questo signori è People Playground con Cat! Che schifo! Che tu mi è venuta un'idea geniale! Ho buttato bambanne e bambalina nell'acido! Tu controlla il bloop! Vai! Vai! Tu diventerai il bloop! Sì! Sì! Il mostrone gigante nell'acido! Vai! Mangiali! Non riesco a prendere! Devi prendergli la bocca! Bravo! Piano! Mamma mia! Mamma mia sta laggando! All'attacco! Vai! Mangiali! Aspetta che non funziona! Mamma mia si è rotto! Sì! Piano! No! Cosa sta succedendo? Niente niente! È solito del bloop accartocciarsi! Mangiateli! Mangiateli! Guarda la bocca! Guarda la bocca! Che sta succedendo? Niente niente Kat abbiamo rotto tutto! No! Oh mio Dio! È sparito? Ragazzi no! Ragazzi no! Non è sparito Kat! Sta fluttuando! Oh mamma mia! Ci sta girando la mappa! Non ci posso credere! Stacca nel multiverso! Stacca stacca! Ci stanno tracciando! Kat! Sei tu? Perché hai lo stesso cappello? Ok! Ok! Perché ti sei trasformato nell'esoscheletro di Five Nights at Freddy's? No! Mi brucia nell'acido prima! Ti ricordi? Ah sì! È vero! Ti ho bruciato nell'acido! Eh... Senti possiamo comunque fare amicizia? Ok! Ah! Aia! Aia! Invece! Ah! Mi si è... Esploso un bra... Amico gatto! Eh scusa! Scusa se ti ho fatto male! Aspetta che ti accarezzo! Perfetto! Mi è venuta l'idea del secolo! Ho inserito Opila in un ascensore gigante che salirà lungo tutta la torre per poi fermarsi al centro dove ho impostato una serie infinita di TNT che esploderanno e faranno crollare tutto! Sei pronto? Io sì tantissimo! Pure io un botto! Ketto! Ma Opila si è liberata dall'ascensore e mi ha ucciso e tu non hai fatto niente! Ci penso io! Aia! Oh mio Dio! Ma Opila ha perso il becco! Oh mio Dio! Mi è venuta un'idea! Mi è venuta un'idea! Adesso cancello tutto! Ce la porto io Opila sopra! Non mi interessa! Ha perso la testa ma non fa niente! Adesso la faccio salire io sopra! Hai bongo! Vieni! Vieni! Io la faccio salire! Tu la fai esplodere! Ok piano? Come si fa? Piano devi premere F sulla TNT appena te lo dico io! Sei pronto? 3! 2! 1! Ok la lascio cadere piano! Molto piano! No! No le TNT! Ket! Ket! Oh mio Dio! Guarda la torre che è stata distrutta! Mamma mia! C'è una bomba atomica piegata! È diventata una baletta! Ma stanno volando altre bombe atomiche! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ket! Mi sa che abbiamo fatto esplodere letteralmente il gioco! Skip it up and die!